Ah, è bello tornare dopo tanto tempo! Scusi, buon uomo? Sì? Sai chi sono? No. Eh, io sono Dio. Ah, ok. E la cosa non ti sorprende? No, no, non sei il primo hipster che incontro. Questa è la Terra? Sì. Il pianeta Terra? Sì. Quello che ruota attorno al sole? Sì. Ma che cazzo avete combinato? Era tutto verde, tutto bello qui. Non c'erano palazzi o propri del genere. Che cosa è successo? Che senso? Ma tipo, ma tipo i Chihuahua! Cioè, come vi è venuto in mente a diffondere un atomo con un pipistrello? Beh, Chihuahua. Il Chihuahua è il minimo, eh. Abbiamo creato il Ligra, lo Zebrallo, i terrapiattisti. Che cos'è un terrapiattista? Eh, allora, sono persone che credono che la Terra sia completamente piatta. Tipo Rufus. Ma basta guardare l'ombra proiettata sulla Luna per capire che la Terra è sferica. No, questo non vuol dire nulla. Ma certo che... Oh, mannaggia. Che cos'è questa puzza? Da dove viene tutto questo inquinamento? Dalle macchine. Perché? Perché usiamo il petrolio. Ma per quale cazzo di motivo l'avete tolto dal terreno? Per le macchine. E a cosa vi servono le macchine? Per andare al lavoro. Che cos'è un lavoro? Esattamente, quello che stavo facendo io prima che arrivassi tu all'interronto a me. Sai, annaffiare le piante e fare altre cose che le persone non potrebbero fare. E perché lo fai? Principalmente per i soldi. E che a cosa servono i soldi? Ma sai, per comprare cibo... Ma prendetelo dal fottuto terreno! Vi ho dato... Vi ho dato frutta! Vi ho dato frumento! Vi ho dato verdura! Perché non lo prendete da lì? Eh, sì, però... Non c'è il fritto! Un altro diruglio, signora. Ho le mie buone ragioni. Un altro diruglio, signora. Ah? Io mi torno su Marte! Arrivo! Cos'hai perso? I miei cucchiaini! I miei cucchiaini! Non mi ha dato! Non mi ha dato!